L'idea è nata per stimolare compositori e strumentisti all'interno del conservatorio Quindi l'idea è migliorare i compositori e i participatori per fare la musica Quindi oggi ascolteremo 35 musici di musica, musica originale, semplici prime esecuzioni, qui al freno di questo finale Quindi oggi ascolteremo 35 minuti di musica, di musica originale, qui all'interno di questi giorni Quindi inviterei sul palco il quartetto d'Archi Gigli Luca Mingoli, primo violino Stefano Moradetti, primo violino Vincenzo Interluca, viola Federico Perpici, violoncello La prima solista Inizio Marco Elena Champion Buonasera Grazie 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 Grazie.